Lei è assai tardetto o piuttosto prestetto? È notte? Ma come si fa a chiudere gli occhi senza aver letto qualche riga? Mi sento piuttosto sveglia anche perché dalla mia amica Setti o Titti ho bevuto un caffè alle 18, pure condito, pure corretto e ci ho pure bucciato una fettina del mio dolce preferito, quello tutto uova e cioccolato, soffice e profumato di arancia sì che sono qua bella sveglia, ho sonno, ho un ciccino in sonno, non è che ho proprio gli occhi sbarrati non nel buio, sono nella mia stanzetta, la menu dorme qua a fianco, il gatto non lo so, è andato via da noi e vorrei leggere le prime due pagine di questo libro interessante che ho sentito narrare appuntate dalla voce del professor Mascagna insomma, è bello questo libro, questo è il libro cucito, vi è anche un'edizione non cucita ma è talmente bella questa carta, così bella questa copertina che poi ve lo faccio rivedere è questo libro, è un mio regalo e allora vi tengo un po' qua con me, domani mattina avrete un buongiorno allora vado, non vi leggo le note dell'autore ma mica ve lo leggerò tutto, è solo così adesso questa prima parte poi vedrò non mi ha un posto limite il professor Mascagna però non mi pare carino spoilerare tutto un libro anche perché è una cosa così preziosa fatto a mano, è un libro fatto a mano dall'autore in un luogo bellissimo a Viterbo allora, guardate che c'è i capelli in faccia che mi danno fastidio allora, allora, allora passato con metà dell'oro Anselmuccio e Cecco del Sarto Sinisbaldo di Lanfranco Filippa Tomeo Gaspare e Iovino o Iovino, non lo so vissuti tra la prima e la seconda metà del 200 non hanno mai saputo di trovarsi nel Medioevo e non avendo mai fatto parte della storia in quanto umili servi e artigiani nessun libro si è mai occupato di loro le vicende dell'umanità medievale immaginate spesso come una giostra dove principi e re si alternano nel loro vorticoso girare nascondono indietro le quinte fatto di maleodoranti vestiti e appetiti incestuosi che poco fanno comprendere gli onori riservati a discutibili personaggi che per emergere si sono macchiati di indicibili delitti e continue soprafazioni ogni tempo ha avuto il suo lato oscuro gli uomini che hanno padroneggiato la parte d'ombra del potere sono gli stessi che nell'arredare le stanze delle torture lo hanno fatto in nome di qualcosa di questo male sono lastricate le strade della storia e quelle che conducono alla nascita dei comuni non fanno eccezione come nel Medioevo a frequente condire le pietanze con odori che avevano lo scopo di nascondere l'improbabile prelibatezza di alcuni cibi potrebbero essere stati conditi nello stesso modo racconti di vittorie e conquiste per farli somigliare a quanto di meglio la storia poteva offrire ad entrarsi dunque nelle strade del passato richiede prudenza circospezione perché quelle che chiamiamo verità potrebbero essere contenitori vuoti nessuno di noi era presente a tavola in quella piovosa sera d'inverno quando Federico II dopo aver mangiato cacciagione condita con crema di castagne e grasso di maiale ha avuto la sventura di rovesciarsi addosso un intero boccale di vino facendo vibrare nell'aria le inevitabili imprecazioni alcuni commensali avrebbero sicuramente eriso a crepapelle per l'accaduto invece sono rimasti lì in silenzio mentre altri dando la colpa al vasaio e quindi a un evidente difetto di tornitura del contenitore si saranno affettati ad assolvere la manica del sovrano finita anavvertitamente nel manico del boccale noi magari avremmo riso a crepapelle ma possiamo dirlo soltanto perché non c'eravamo di sicuro la cena alla quale non abbiamo partecipato è stato uno dei simboli di questa parte di passato fatta di porte chiuse e di ceti separati intorno alla tavola il potere e la ricchezza fuori un indistinto mondo che attende per elemosina lembi della tovaglia di pane sporchi di condimento è comunque bizzarro che questa parte di passato dipinta a tinte fosche sia stata in realtà l'epoca più colorata della storia anche se il colore di forte connotazione simbolica ha avuto come residenza l'esclusivo dominio dei signori la ragione che ha fatto appartenere al cromatismo ai ricchi ha riguardato sia l'inviolabilità della tradizione sia gli alti costi per ottenere la saturazione delle tinte i nobili conoscevano poco dei complessi procedimenti per rendere regali sontuosi i loro vestiti ma avevano sicuramente presente il prezzo decisamente elevato e alla portata di pochi è il lusso che è rappresentato dagli abiti quello che fa immaginare il medioevo come un grande teatro pronto ad accogliere sul palcoscenico i protagonisti della storia lo spettacolo poteva essere una festa un matrimonio una processione dove nelle prime posizioni si filavano i vestiti migliori indossati da nobili e ricchi borghesi spesso mercanti o cambiatori di monete a vietare l'utilizzo del colore ai servi provvedevano le leggi sontuarie suntuarie scusate di derivazione romana promulgate per circoscrivere privilegi a pochi e dare sostanza alle distinzioni e con questo vi auguro la buonanotte io amo tanto il colore tanto 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 domani magari se ci sarà se ce lo regala un raggio di sole me ne va un po' in campagna a raccoltarvi dei blu di Lollo Crea ciao a domani avete visto il mio play di scozzese e la mia copertina ciao ciao